L'amministrazione comunale di Modica riconsideri la propria delibera e sottoponga al tavolo regionale una proposta condivisa. Questo l'obiettivo finale di Davito D'Antona, sinistra italiana Modica, il quale è intervenuto sulla questione calda del dimensionamento scolastico. La proposta approvata ha suscitato una serie di reazioni negative coinvolgendo il personale scolastico, le famiglie degli alunni e la città. Allo sostanziale conferma dell'attuale organizzazione ormai collaudata spiega l'esponente di sinistra italiana ad eccezione di una leggera modifica proposta all'ufficio scolastico provinciale, si è preferito da parte dell'amministrazione comunale e rivoluzionare la struttura scolastica cittadina, intervenendo con scorpori e riaccorpamenti di plessi scolastici che hanno interessato tre istituti comprensivi su quattro. L'esempio più eclatante ed anche quello più contestato è data la scelta di sottrarre il plesso scolastico di Sant'Elena all'istituto comprensivo Santa Marta Ciacere e di affidarlo all'istituto comprensivo Carlo Amore, sostituendolo, prosegue D'Antona, con due plessi ubblicati nel quartiere Sacro Cuore e lontani dalle rispettive sedi centrali. A tale complessa rimodulazione hanno risposto le famiglie di centinaia di alunni e tanti rappresentanti del mondo della scuola che hanno dato vita martedì scorso ad una partecipata manifestazione nel centro della città, come non si vedeva da tempo. Ma non sono mancate anche altre forme di protesta, sottolinea ancora D'Antona, dalla netta posizione contraria delle RSU degli istituti Santa Marta Ciacere, Carlo Amore e Raffaele Poitomani, alle lettere aperte di genitori e di alunni pubblicate dalla stampa. Da qui, secondo D'Antona, la necessità di venire incontro immediatamente alle esigenze manifestate.